Ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 32esima e terz'ultima giornata di Serie D, girone F si sfidano Trastevere e Vastese Ostruire completamente la visuale La battuta di Ficara sul fondo, il pallone Sibila di poco a lato Arriva il Mancino, direttamente in porta di Rienzo Pallone ancora vivo, Crescenzo, si appoggia Ilari Numero 2 si guarda intorno, c'è San Nipoli che potrebbe anche calciare Passa a Nipoli col destro, pallone sul fondo e per poco non trova Rientra anche Allegra che si era portato in avanti Sperando probabilmente in un cross che non è mai arrivato Attenzione a Ficara che fa fuori San Nipoli Poi il pallone in area di rigore verso Alonzi Alonzi il destro, Semprini a dire no Pronto Ilari andare con le mani C'è Corsetti in area di rigore, cercato il numero 10 Lo stop con due giocatori addosso Poi mette il cross, deviato, il tocco verso Crescenzo Deviazione, il vantaggio della Trastevere Daniele Crescenzo fa 1-0 al sesto minuto della ripresa Numero 10 ha sistemato il pallone, tutti nell'area piccola Arriva il Mancino, colpo di testa, traversa Protestano e la sfera dall'altra parte ancora calcio d'angolo Per un istante perché poi riparte il Trastevere Almeno prova a farlo con Giordani che poi finisce anche a terra Attenzione alla vastese che entra in area di rigore Semprini in chiusura Ma arriva il fischio del direttore di gara Trattenuta e calcio di rigore per la vastese Cartellino giallo Tutto pronto, fischia il direttore di gara La rincorsa di Ficara Semprini, pallone che rimane lì alla fine Proprio Ficara a metterlo dentro Accoglie Sansone che va in profondità Tarantino col tempo giusto Poi Di Filippo di prima Mette giù Ficara che restituisce al numero 4 La finta di Di Filippo che poi allarga Attenzione al limite dell'area di rigore Alessandro, Semprini e poi Di Filippo Raddoppia la vastese che rovescia il risultato Sulla respinta di Emanuele Semprini È il più lesso di tutti Il capitano ospite Nel fare 2 a 1 Contro noi due però l'arbitro fa segno di rialzarsi Sansone ha avuto la meglio Ma il Trastevere strappa ancora il possesso C'è Crescenzo che allarga sul secondo palo La penna, mette giù Ma c'è alta la bandierina Chiama lo schema E va col destro, il pallone passa Attenzione a Di Filippo in area di rigore Il palleggio e il destro sul fondo Pronto Proia dalla bandierina Tanti movimenti nell'area di rigore Sinistro sul secondo palo C'è Giordani che rimette al centro Libera un difensore Poi ancora un colpo di testa Di Chinappi Ben catturato da Marco Di Rienzo Oppure fischierà la fine Il fischietto in bocca Infatti arriva il triplice fischio Grande sultanza della vastese Che conquista tre punti sul campo del Trastevere Vincendo 2 a 1 E ribaltando il gol di Crescenzo Con le reti di Ficara e di Filippo Vincendo 2 a 2 Grazie a tutti.